Prima di avviare il video, un gentile promemoria, assicurati di premere il tasto iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie, cari spettatori di News Mix Up, oggi siamo qui per parlarvi di un evento che ha scosso il mondo della musica. La famosa cantante originaria di Savona, amata da migliaia di fan, ha vissuto un momento di puro terrore. Trovata in condizioni allarmanti, con il volto grigio e la lingua bloccata in gola, è stato necessario un ricovero d'urgenza per salvare la sua vita. L'incidente ha gettato nello sconforto non solo i suoi estimatori, ma anche gli addetti ai lavori, considerando il recente successo al Festival di Sanremo e le prospettive di partecipazione all'Eurovision Song Contest. Le parole del padre della cantante, Elvio Scarrone, raccontano la drammatica vicenda, sottolineando l'importanza di essere pronti a fronteggiare situazioni di emergenza. Durante un'intervista rilasciata in passato, Elvio ha rivelato di aver salvato sua figlia Annalisa da un destino potenzialmente fatale, agendo con prontezza quando l'ha trovata in difficoltà. Il suo coraggio e la sua tempestività hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire il rapido intervento dei soccorsi e il successivo recupero della cantante. Questa vicenda ci ricorda quanto sia preziosa la salute e quanto sia importante essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza. Restate con noi su News Mix Up per ulteriori aggiornamenti su questo caso e per altre notizie dal mondo della musica e dello spettacolo.